e pura vita ragazzi benvenuti in una media su baldur's gate 3 continuiamo dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo capitolo capitolo dove abbiamo svaliggiato la torre di lord rokan questo maledetto mago che vuole canto notturno abbiamo avvisato canto notturno e ovviamente non l'ha presa molto bene adesso il prossimo step è pestarlo di botte quindi andiamo direttamente a gonfiarlo presumo che la scelta sia omettersi dalla sua parte o contro di lui ovviamente sceglieremo il canto notturno quindi andiamo su e pestiamolo mi mandi tu vediamo cosa succede canto notturno si ok torniamo su spero ragazzi vi stia piaciendo la serie se è così come il solito vi invito a mettere un bellissimo se non vi piace iscrivetevi al canale ma è lui portale portale si no mi sa di si questo no? teoria si 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 segnalato se bagata la voce eh? ah ecco no mago 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 not the night song surely why she's nothing but a relic to be purchased and pursued at last there you are my dear you will address me with due deference i am dame aelin and you are a wealth without honor without pride with nothing but a tower full of trinkets my apologies dame aelin I meant no disrespect perhaps we could start over I am the roachan I am most please to make your accords and that of your fine companion who perhaps heard I was looking for you ehhh hai offerto una messorma a chiunque ti portasse spiegaci il perchè non mi fido dovremmo eh oh questo mentira no 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 sta mentendo secondo me ovviamente oh brava chi è che si sta tuffando in piscina se te lo permettiamo si dove abbiamo la sua giacca e il suo bastone e non se ne frega niente finora soltanto un uomo è ahhh ora è morto puoi aver rimortato l'eroga ma in cambio mi aspetto una donna ricompensa basta così di un'altra trappola sul tuo marcha ingegno ti garantisco che sarà l'ultimo pfff paiasso no mi spiace 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 e si alza le mani chiaro chi chi eppa amico aspetta non vedo che brutto posto per combattere non si capisce un cazzo veramente non si capisce eeeh doppio critica iniziamo con le cazzate eeeh capo eeeh non c'hai un bel beh eeeh cosa sei aria mollami fuoco e aria no non me l'aspettavo proprio così così ma ok forse l'aria da qua non è proprio una brutta idea idea brutta brutto brutto bello rohakan a lui è la movimento come dove sei bastardo ci ha chiuso anche scusate un secondo eh qui ma adesso glielo spieghi eh per te mamma mia che schifo che fai allora tutto lì aspetta un po' di più da te passo velato nada stai lì vai lì vai asso stai fermo lì ma c'è tutti ma la smetti sti cazzi facciamo un po' sì vabbè eeeh stiamo già morendo qua comunque eh stiamo già morendo qua comunque eh anch'io ce l'ho eeeh va indietro va no sì vabbè ciao allora com'è catapulta fangosa pistalo sì vabbè sappiamo fare un cazzo noi la realtà è questa oh la no terra il mio dov'è il problema il problema sono loro giusto dove sono i nemici qui prendo anche lei però quella domanda vabbè tu fallo oh finalmente allora gli attacchi catapulta fangosa cosa vuol dire non attacchi non attacchi e gli attacchi di opportunità ah no ecco perché vai dal mago ha ecco ma quello sarebbe un altro attacchi di opportunità ma lo ignorerò eeeh vediamo Sarebbe male questa però Tipo così Male fuori da qua Di muovere Posso usare No perché Però è il caso di muoversi Perché non mi piace essere chiuso Tu chi sei? Friend o nemico? Ma non muoiono? Qua si è un'idea Sì vola Dai qua Su Un altro Buongiorno Sì 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 Posso? Tocca me di nuovo vero? Buonasera Che quasi mi sciotta comunque Con un ritente scarzante No Eh ciao Perché non sono Perché restano Perché restano Se è morto il creatore Di loro Vabbè domanda Crank Chi è Crank? Ma c'hanno 260 di vita Questi ragazzi Cosa sei tu d'acqua? Cos'hai di tuono? Così non va bene Così? Così? Neanche male Ma se stai usando un incantesimo bastardo Come fa A essere Wow Che potenza Che forte che è il mio mago Che forte che è il mio mago ragazzi Incredibile Avete visto come si fa Prima scala E poi usa Il lancio Avete mai visto Un mago così potente Allora Quello d'aria Mi sembra il primo Andarsene Mi sembra Che se ne andrà per primo Curiamo tutti C'è un modo Di prenderne due? Se mi metto tipo qui Ecco è lì No prendi Che ti è caduto Prima Tu che sei amico nostro E Azione di classe Te ne vai qua Metto qua Minalo Ti fa schifo menarlo Sì Quanto pare Dai vecchio Ascolta Ce l'avete col mago? Sì? Ma perché usi l'arco? Carlac Buttati questo Supericuletto Tu che sei messo male Sparisci No Prendimelo Ho un critico Potresti anche farlo Cioè è solo la spada Più forte del gioco Solo quello hai Cioè nel senso Volendo Potresti anche Pensarci Non aver fretta Crown Crank Crank Lì Qualche ti chiami E faccio così E vediamo Mi segui immagino Provo Attacco dopo Tutti Da perché? E se permetti Posso chiedere perché? Di guento Te lo lancio Bastardo Tutto è per te Menatelo Ma perché vai via? Non distruggiamo il problema No no Giustamente Svanta Perché? Vediamo Un pochino E cos'hai te Per me? Questo? Difesa alta Non lo ucciderà Mai No dai Ascolta Fai una figata Va Vai così Va Fai più bella figura Più o meno Vai Già meglio Cosa fai? Scendi? Ah fa le scale Hai rotti i coglioni Con Gale Non devi rompergli il cazzo A Gale Tutto il giorno Tu Cioè Sale Dai Sbagli ancora Per cazzo Uccidiamo Brava Vedi che quando vuoi Allora No Metti avvicini Colpo di scudo Per te Maledetto Gale Che si è un po' Stufato Obiettivamente Però non può lanciare Incantesimi Non è attacco D'opportunità Come? Metto qua Vediamo Se vuoi venire Ti aspetta lei Qua Vediamo Certo Vai via No Ovvio Pestalo Pestalo E Ritorsione Psicotica Tu niente Silenzio Oh La Pestalo Gonfialo 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 Stanno Stanno Pestalo Come un palloncino Non ci arriva Così ci arriva Per forza No Ma eccolo lì Vieni qua Vale Grandissimo Che sei Che è successo Ho smontato Bene Vengo lì E mi spieghi un po' il problema adesso Va bene Beh andiamo tutti Non ciò vuol dire Le risorse non sufficienti Devi solo volare Maledetta Ma spada no Vero ti fa schifo Chiaro Immaginavo Vai Ovviamente E fuoco Se sei stronzo Ti sta bene E Sì E luce Non puoi dirmi Ecco Non puoi dirmi Che lo prendi Quello Senti Vieni va Restiamolo in gruppo Morirai Prima o poi Eh Te devi annar È vivo È vivo Non me lo stai tagliando in due però Minchia Gli ha fatto la Benas Batman Gli ha desfatto la schiena Complimenti Sei più sadica Di quello che pensavo Non giudicherò questo Però mi ha un po' spaventato La cosa Crank Vabbè Beh io rubo Quello che voglio Adesso chi è che mi guarderà male Dov'è il maledetto Dove me l'hai messo Eccola Devo lutarlo amica Sai com'è Trono di libri Non c'è un cazzo Veramente Che tristezza È anche vero che l'abbiamo Svuotato Ieri ma Aspettavo un po' più di Content Vabbè Signo Sorella Fatto no? Perché è finita Volevi pestarlo ancora Bardo Conosci la tristezza Almeno Lo conosco Le conoscono Le ballate Cosa si prova Giuramento di vendetta Una della costruzione Trasera della vendetta Che può essere ottenuta Su una volta Forse non tra i più No va Lo facciamo Certo Ma no Ovvio Chiaro Ecco un marido Sì Basta Finita la storia Vabbè dai E il portale Che si è aperto Che ci riporta a casa Sì Sicuramente Saranno tutti aggressivi Giù O nessuno se lo noterà Eh Allora Salviamo Tra l'altro mi sa ragazzi Che a breve Molto a breve E non tanto a breve Facciamo il livello 12 Ridendo e scherzando Si sente incazzata Qua giù Buongiorno Vado io eh Non so di cosa state parlando Io vado eh Salve Sì 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 Prego prego Non fate che io vi fermi Eh prego prego Bene Allora E tu Intanto Puoi andare a casa Grazie del tuo servizio Siamo un po' messi male Quindi facciamo Quindi facciamo Così Facciamo un bel riposino Così Allora Per adonare gli alleati Isabel Ah Perfetto Allora Adesso potremo andare Dal maghetto Che ci aveva chiesto Di parlare Con la sua Musa Qui In contare Mistra Direi che possiamo Fare quello A sto punto Sì Andiamo da Mistra Vediamo cosa vuole Dov'era Mistra Scusatemi un secondo Arrivo subito Allora Molto bene Continuiamo L'avventura Allora Dicevamo Dicevamo Noi siamo qua E qui Ma di qua Ok Andiamo Che 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 sbocca Così Ma è dentro Oh Beh Sì Presumo di sì Vabbè ma è dove Siamo entrati Beh sì Giorno Ah Eccola 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 Eccoci qua Vediamo cosa succede O lungo il bastone Amico però No 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 Gail's right The very air around the statue crackles with magic It sets your teeth on edge A stream of pure undiluted weave I only have to reach out And it will carry me to Mistra Wherever she may be Vabbè andiamo Vabbè andiamo Non esageriamo Adesso E Sei pronto Sei Sei pronto Per questo Sei pronto Sì Ma sì Esatto Ma Taroni a posto Amico Ma c'ho un occhio Viola Mi sono sempre domandato Come ci si sente Ad essere nervosi Lo odio Tra tutte le cose Perché per un nervoso Un'udienza Con una idea Mi sembra Delle più ragionevoli Datti un contegno Non temporeggiare amico Vai su Gail Non rompere il cazzo Vai su Ho un occhio viole Pieno di sangue Se vuoi E Cerca il suo perdono Gail Potrebbe essere La tua amica La tua unica La tua unica speranza Di curarti da quel globo Falla con Tor Se dir la corona di Carlson Sarà presa le nostre mani No no Non dovresti andare da lei Gail Cerca il suo perdono Gail Non mi porti con te Non rivelarle nulla Scopri cosa da dire No va così Non ti preoccupare Prova Muoviti Perché se ti dico no Andiamo via Noi continuiamo la nostra vita Tipo Gail Vabbè non tornerà Dai Gail Su pedala Ma quindi adesso Andiamo in meta noi E andiamo con Gail Per forza Eh Ha senso Beh si mangiava Una bella caramellina Gail comunque eh Eh? 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 All the magic in existence, and yet you thought only of preserving yourself. So that's what you're scared of. With the crown of Karsus reforged, I could take control of the Karsite Weave. You can no more control the Karsite Weave than a weathervane could control a storm. That it entered your body and consumed no more than your powers was a miracle. But we will not be granted another. The only reason the orb sleeps is because I have allowed it to feed on the true weave. A temporary measure, but one that will not be enough to save us. With each day that passes, the Elder Brain threatens to become a new kind of god. Its worshippers, a scourge of soulless illithids. If you will not use the orb to end this abomination, then you must find a way to separate crown and host. When you've done this, you must surrender the crown of Karsus to me. Great ask indeed. You've given me much to think on. Hmm, another one who wants the crown. So be it. Follow the needle of your own wisdom. We will see how truly it leads you. Hmm. Interesting. Good morning. And now... And... I interpret that... ... ... ... ... Molto spaventato di noi, no? Flippando, Saranni che prega. Io entro e ci parlo subito. Dimmi, dimmi. Siamo tornati a un terzo morto e un po' di più. Non posso credere che ho stato sorpreso. Dopo tutto questo tempo. Non sono sorpreso sul potere travolgente. Sì, sono sicuro che è stato nel momento a me. Ma ci ha detto nulla di utile. Lei ha dato il segreto del potere dell'orba. Mi chiedo questo un'ottimamente utile. Una caccia di Carcite. In me, tutto questo tempo. Mi sapevo che l'orba non era una balla normale di magica. Prima di essere la creazione di Carcassi. Dio! Come non ho visto questo? Perché hai preferito comportare l'idiota? E' troppo facile non portare l'attenzione quando stai giocando su se... Mmm, è vero. Sì. C'è una razza per cui questi eroi inutili hanno stato il backbone di una legenda lirica e lirica per tanto tempo che erano esistenti. Anche così, ero sicuramente un apprendimento naivo da l'ora. Mi considero un'archmaia. E' stato un'archmaia che era un'archmaia che era un'archmaia comunale. Sì. Almeno ora sono armato con la verità e le aspettazioni delle esperienze. C'è un'archmaia che la porta per l'orba è aperta alla finalità. Alla che ho dovuto fare è andare a farlo. Carriando il corso di Carcite. E' questo che vuoi? Approfittiamo dell'opportunità, allora meriti di guarire. E' questo che vuoi? Sì. Ho visto un po' altre opzioni che mi abbracciano. Se voglio riconoscere queste parti di me stesso, l'orba è scattata. sempre voglio essere me di nuovo. Ti cadevo più ambizioso perché? No. Ti cureremo. Sei un grand'uomo conosce... Ti cureremo. Grazie. Non ci sono molti che mi credo di stare dietro a me su questa giornata. Se tu stessi, tu dovessi fare questo perché credo che io abbia questa chance. Ma... Se io potrei promiscivi una cosa in return for your faith in me, it's this. I will use everything in my power to ensure we defeat this evil. Va bene. I will not let you down. Ah, non puoi, ti controllo io. I believe we have a date with an elder brain to get to. Shall we? Ancora no, brother. Calmo. Eh, fretta. Non ne abbiamo ancora. Allora, cosa è successo qui? Niente. Gale ha incontrato un mista nei piani esterni. Questo l'abbiamo fatto. Dovremmo. Questo? Prendere la gemma, affrontare e occuparsi del diavolo, aiutare boss. Cosa vuole? Dovremmo esplorare la città e vedere se troviamo qualche indizio. Ah, facciamo una cosa effettivamente. Ho visto che ci sono ancora dei cadaveretti da esplorare. Rimuovi. Rimuovi. Io lo farei obiettivamente. Vediamo cosa abbiamo vicino, ragazzi. Visto che siamo a un momento fermo. E nel prossimo episodio probabilmente andremo da Cassador. Ma non in questo perché siamo già a mezz'oretta. Andiamo a vedere Frank, per esempio. Che vedo che restano ancora gli omicidi in giro e non ho ancora ben capito perché. Quindi direi che ci potrebbe stare un'investigatina. Vabbè, facciamo così, ragazzi. Sarà un episodio un po' più corto. Penso che l'esplorazione la taglierò fuori dal video perché effettivamente non sono niente di che. E quello che faremo nel prossimo episodio, ragazzi, a sto punto andiamo da... No, ci facciamo la... Dai zitto, bambino di merda. Sto parlando io. E quello che faremo nel prossimo episodio probabilmente sarà andare a farci lo scudo di Cuore Scuro. E se facciamo in tempo magari andiamo da Cassador e andiamo a esplorare anche la Casa del Dolore. Quindi direi che lo possiamo lasciare fino a qua, ragazzi. Per oggi è tutto. Vi dedico un pura vita. Un bacione. E ci vediamo in un prossimo capitolo di Baldur's Gate 3. Ciao, ciao.